ciao a tutti bella gente di never winter sono cazzo superstar ben ritrovati in questo nuovo video dove andremo a vedere come sfruttare totalmente le missioni settimanali che ci da si bella so che ho fatto qualche video quella ma questo vorrei fare uno proprio solo specifico su come poterlo sfruttare al massimo ok magari che a volte si concatena se si unisce con qualche evento particolare quindi insomma può essere un modo per avanzare velocemente nelle nostre campagne e appunto cominciamo a parlare per chi ancora sta facendo le campagne allora noi andiamo nel suo negozio che si sblocca il livello 80 ragazzi nessun negozio nel parliamo con si bella queste missioni si sbloccheranno livello 80 ok quindi prima dell'ottanta non la vedrete qui si bella quindi non vi preoccupate che avete dimenticato qualcosa dovete solo arrivare livello 80 e una volta arrivato all'interno insomma del suo menu e otterremo tre missioni settimanali io le ho già prese non sono quelle che vedete per esempio stasettimana ci manda sharandar a fare delle una missione sharandar è un'altra revel of barovia e l'altra al distretto del fiume ok allora le missioni sono varie può essere dover completare cinque missioni in quella mappa oppure uccidere tot nemici o fare degli incontri eroici ma sono varie insomma le missioni cosa vuol dire che io andando fare la missione per esempio a sharandar che mettiamo che adesso dove dire ancora quale mettiamo che sia quella uccidi tot nemici e ci apparirà una percentuale da 0 a 100 una volta 100 e abbiamo finito la missione tornando da si bella a chiudere la missione mi darà la valuta extra per quella campagna quindi se io ho fatto la missione a sharandar mi darà delle valute extra per sharandar se l'ho fatta a raveloff mi darà delle missioni delle valute extra per raveloff e così via ok quindi in questa maniera avremo modo di andare a velocizzare la conclusione delle campagne ok e oltretutto queste missioni alla conclusione ci daranno due cose interessanti uno sono dei medaglioni degli eroi 5 per missione mi pare 5 per missioni da poter sfruttare una volta raccolte un tot per prendere di vari oggetti che sono vincolati all'account anche i gettoni anche c'è scritto personaggio li potete passare tramite la banca tutte robe ripeto vincolate account quindi non potete vendere questo lasciatelo perdere è una ciofeca se uno si pensa che guadagna 150 mila diamanti cioè ti dà un bonus quando te trovi diamanti grezzi o quindi siete in uno scrigno hai la botta di fortuna di trovare 10 mila diamanti astrali ci sarà un 50 per cento in più di dare ti si saranno dati ma grezzi non è che ne potete raffinare di più quindi lasciate perdere fondamentalmente si fanno diamanti astrali grezzi una volta che potete far tranquillamente le code quindi sfruttatola al massimo per tutte queste altre cose che possono essere utili io personalmente prendo solo oggettoni che è vero che a volte questi possono servire ma per quelli che siamo noi diciamo che di tanto in tanto un po si trovano tramite le chiave giornaliere che si aprono gli scrigni quelle che c'è quella che c'è dal vip che io vi riconsiglio di nuovo di fare in qualche maniera ogni tanto quando c'è uno possiamo anche comprarli ma i gettoni diciamo che sono una spesa molto alta e ne servono parecchi io personalmente li sfrutto solo per poterci compagni da epici a leggendari non li uso per per altre per altri app fino alla spesa di 500mila che li uso con gli diamanti astrali almeno che un compagno non ci sia direttamente da comprare già epico e mi conviene farlo non mi conviene otterrlo su a me eccetera eccetera ma i gettoni raccolgo questi e li uso solamente da epico a leggendario è la cosa migliore perché poi da epico a leggendario costa un milione quindi alla fin fine fate un po i conti poi voi vedete se vi serve qualcos'altro prendete altro insomma però c'è questa possibilità di prendere con questi gettoni ogni missione ce n'è da 5 per poter raccogliere prendere un oggetto utile insomma l'altra utilità sempre per chi sta facendo le campagne e che ogni missione che andiamo a fare ci darà anche delle valute extra per una campagna nostra scelta abbiamo questa possibilità quindi ogni missione oltre a dare le valute della campagna dove andiamo a fare la missione ce ne darà anche di un'altra nostra scelta che come vedete questa è la sua raccolta per ognuna per ogni campagna che c'è nella sua raccolta noi potremmo andare a scegliere su quale ricevere la valuta extra io inizialmente finché le stai facendo vi consiglio di mettere o su store came thunder o la supremazia del manto store came thunder perché molto lunga sembrano molte valute ci vuole per farle sembrano molti voimblot che si possono farmare o a brian shander per esempio cercando le reliquie vicino a quello che vi cambia le reliquie quando le trovate c'è una specie di cassa che lampeggia diciamo brillucica lì potremmo raccogliere una paletta che durerà un tot di tempo poi basterà tornare a riprenderla e ci permetterà di raccogliere le reliquie per tutte le mappe delle store came thunder quella la zona migliore da andare è brian shander più semplice perché basta girare intorno non tocca girare intorno agli alberi come non so l'hollywood eccetera è molto più semplice tutta lì e si può fare una barra raccolta di voimblot oppure farmando il dungeon di fbi che anche se inizialmente logicamente non vi consiglio di fare una chiave per il secondo scrigno perché costa 2000 voimblot quindi se voi ogni giorno perché giornaliera andate per spendere 2000 voimblot insomma però farmando anche a prendere una cassa potete già ottenere anche lì delle dei voimblot extra e di conseguenza comunque farete anche dungeon quindi guadagnerete vostri amanti astrali magari troppate qualcosa da rivendere o che vi serve eccetera eccetera oppure vi mettete un'oretta a fare il giro lì a brian shander raccogliere più veli più voimblot possibile ma meno per un po finché vi serviranno per bloccare le prime cose eccetera però queste sono le due anche la supermazia è un po lunga e pallosa onestamente quindi inizialmente finché fate le campagne io vi consiglio queste poi una volta che siete a posto andrete magari su un'altra campagna che state ancora facendo ok non so la tirannia per esempio che c'è abbastanza lunga e vi sconsiglio sottosuolo c'è il scottosuolo basta fare gli incontri eroici o demogorgon i fizzar li fate su perché questo vi darà solamente fizer in più capito quindi non ve la consiglio questa proprio però una volta finita quelle due più rompiscatole andrete a mettere dove vi interessa di più una volta e questo per quel che riguarda un po la volta perché questo per quel che riguarda le persone che stanno facendo le campagne in più adesso in generale questo può essere sfruttato per tante altre cose ok allora innanzitutto una volta finite tutte le campagne e quindi non ci servono più aggiungere valute in quest'altra io vi consiglio di lasciare il bonus in più in nel mezzo in gene perché perché allora innanzitutto di tanto in tanto preghierina va bene facciamo perché di tanto in tanto ogni tempo esce questo evento reclutamento di never amber cosa vuol dire che noi creando un personaggio dura un mese in totale sono massi 10 giorni ma dura un mese durante questo evento qui se noi creiamo un personaggio nuovo e lo andiamo a livellare ogni tot livelli ci verranno dati degli incentivi di never amber che potranno essere sfruttati dal mercante dei sigili degli incentivi di never amber che nella zona del mercato qua venditori di incentivi ok e all'interno potremmo prendere degli oggetti tipo come c'è qui da si bella però ci sono delle cose in più oltre a tutta questa roba che già vedete che anche lì i compagni e i gettoni ha scritto che sono vincolate personaggi ma realtà tramite la banca si possono passare anche agli altri ci sono altre cose c'è una borsa leggendaria c'è un compagno epico da curatore perché è la guardia di never amber da curatore e c'è una cavalcatura epica ci sono tante ci sono delle gemme per fare molti punti raffinazione però anche lì io lo sfrutto appunto per fare i gettoni e compagno allora perché mi sono utili mettere le valute finite le campagne lo ripeto nel mezzo engine perché se andiamo a vedere nella campagna del mezzo engine una volta terminata potremo con cinque racconti d'avventura ottenere da questo riquadro questo scrigno dove all'interno troveremo best dei frammenti e che sono da mettere nelle nelle nella cassa della gilda ma questo è talmente poca roba cioè non andate a buttarli via lì i sigilli del protettore uguale che poi non sono del protettore adesso sono della corona però anche lì insomma per 25 sigilli hanno interesse il tomo dell'esperienza demoniaco perché in questa maniera quando io andrò a creare un pg che sfrutterò solo per l'evento oppure se stiamo tirando su un pg secondario ok questi tomi non li useremo per far fare esperienza al nostro personaggio secondario o da sfruttare per l'evento di neverember ok in modo tale che raggiungeremo prima il livello che ci interessa nel mio caso mi interessa di fare al 59 perché otterrò gli ultimi incentivi a quel livello poi otterrò altri scritti ma non c'è nulla che mi interessa quindi è un compagno che se non ho maxati 200 incentivi di neverember per evento perché ogni evento ogni a campo riceve nel massimo 200 quindi voglia che tocca fare due pc ok infatti io prima avevo un maghetto per riuke perché ha seguito i vecchi video su come facevo di come livellare eccetera poi è arrivato a un certo livello mi sono ripassato tutta la roba che gli ho dato e l'ho cancellato per non dover comprare un altro slot personaggio che non mi serviva e però cancellando personaggio te ti ritrovi uno slot personaggio vuoto ne ho creato un altro è un presentemente armato per far veloce perché all'inizio le missioni vengono più veloci che dal nome proprio fantastico gino ecco the best of the server lo sto sfruttando per arrivare a 59 ottenere gli altri incentivi ottenuto qui anche qui cento lo terrò lì come banca affinché non ci sarà di nuovo un altro evento di neverember allora quello lì mi passerò di nuovo tutta la roba lo cancellerò ne creerò un altro e nel frattempo avendo tenuto come valuta extra il mezzo engine avrò accumulato parecchi tome perché comunque se vinta non è che viene fuori una volta al mese c'è ogni tempo viene fuori ogni qualche mese viene fuori che è in modo tale che io in quel evento lì visto che ogni evento si possono tenere 200 incentivi io lo sfrutterò questi tome per tirare su velocemente il mio personaggio secondario ok che logicamente però gli comincerò a usare dal livello 15 in poi perché perché dal livello 15 possiamo equipaggiare i primi tre pezzi nel lato sinistro del nostro del nostro equipaggiamento i primi tre pezzi che hanno uno slot utilità dove andrò mettere i lapis lazuli logicamente fino a che non arriva al 15 non vado sprecare i tomi faccio due tre missioni che fai fai veloce portarla al 15 all'inizio appena arriva al 15 li montano questi equipaggiamento lapis lazuli in utilità e via di tome dopo non farò più nessuna missione al massimo farò quelle del chierico che mi da in fortezza che devo fare a fine due code da al massimo due code al massimo quindi farò anche nel frattempo formero anche primi diamanti astrali quindi mi sta bene ok altrimenti dopo solamente coi tome boom 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 fino al livello 59 e ricominciata così da capo e un altro cosa che si può sfruttare e se abbiamo dei compagni da livellare logicamente conviene nei compagni che quelli che poi prima di tutto quello evocato beh logico e secco che dovremmo tenere evocato e poi anche i compagni che comunque dovremmo tenere nei vari slot difesa utilità attacco eccetera ok senza dover comprare e tome di esperienza che costano quelli del compagno costano parecchio e allora invece di andare a spendere diamanti astrali per comprare quelli noi quando andiamo a chiudere queste missioni si bella che pagano bene pagano 15 mila punti esperienza circa e verremo qui prima di chiudere evocheremo il nostro compagno quello che dobbiamo livellare ok non 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 upare di grado livellare ok se abbiamo il dono di gilda per punto esperienza lo mettiamo anche se piccola verità non so se funziona se va a incidere anche nei compagni onestamente però penso di sì e poi comunque non mi costa nulla lo mettono e evo quello appunto il compagno metterò questo bonus della gilda di punto esperienza non andrò a cambiare tutti i lapislazzuli mi vanno a mattina intanto e a quel punto chiuderò la missione quindi i nostri compagni intanto faranno anche esperienza nel mentre facciamo ok tanto del mentre che mettiamo da parte o i soldi oggettoni per parli dobbiamo prima farli livellare e questo qui è un ottimo metodo per fargli fare livellamento logicamente vale anche per altre missioni ragazzi possiamo sfruttare questo metodo se andiamo a chiudere una missione appunto a mezzangine gente stiamo facendo la campagna che cominciano a pagare 7 8 mila punti esperienza alla chiusura possiamo fare lo stesso procedimento così per le varie missioni quelli dove costa dove pagano 1.000 2.000 punti esperienza cioè non va la pena per l'immattimento ma quando cominciano a pagare dai 7 8 10 mila punti esperienza può essere un metodo per da sfruttare per tirare su per far livellare i nostri compagni ok mi pare di aver detto tutto spero di aver detto tutto 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 aggiungere non c'è più niente questo video finisce qua noi ci vediamo nel prossimo video per altre questioni per altre novità se il video vi è stato utile vi è piaciuto vi invito sicuramente lasciare un like a iscrivervi al canale e buona pasquetta in quarantena a tutti e mi raccomando come al solito fate i bravi ciao e alla prossima ragazzi ciao